Buongiorno, sono l'architetto da Lai di Carlo, sono funzionario tecnico Knauf. Il mio ruolo è dare assistenza tecnica agli studi, agli imprese, agli enti che utilizzano sistemi a secco, quindi pareti, contropareti, contosuffitti e tutto quello che è appunto il mondo del secco. Siamo qua oggi perché Knauf è una leader del settore, crede molto nei sistemi a secco ovviamente e nelle collaborazioni con vari enti per promuovere i suoi sistemi che si sposano molto bene con quelli che sono gli obiettivi di questi interventi, questi convegni. Siamo presenti al convegno perché è sempre stata una delle principali mission di Knauf, l'assistenza tecnica ai progettisti, quindi promuovere i propri prodotti e dare assistenza anche nella posa, nella scelta di materiale, nella scelta delle tipologie di pareti e contropareti da utilizzare poi nei vari progetti. È sempre stato appunto un input che Knauf ha sempre dato ai progettisti, quello di assisterli nella scelta, nella definizione di tutte le stratigrafie in modo tale da avere un prodotto che sia sempre perfettamente, innanzitutto biocompatibile, ma anche perfettamente adeguato a quelle che sono le esigenze poi dell'edificio che deve essere realizzato.